È nato prima il mercato di Sulmona che la città dell'Aquila. Riconoscere il mercato di Piazza Garibaldi come mercato storico perché recuperi quell'attrattività che ha avuto nel corso degli anni. Una proposta che arriva dal vicepresidente della Confesercenti della provincia dell'Aquila, Pietro Leonardozzi, e dal direttore dell'officina dei sapori Cescot di Sulmona, Angelo Pellegrino. È proprio Pellegrino a spiegare a un occhio per tutti come è nato prima il mercato di Sulmona che è la città dell'Aquila. Già dai tempi di Federico II si parlava di attività artigianale degli orafi, di marchio, di qualità dei prodotti e della città di Sulmona che doveva ospitare una fiera significativa in Calza, il direttore della Cescot. Stiamo cercando di proporre all'amministrazione regionale di introdurre in maniera significativa il discorso dei mercati storici, un impegno che dovrà portare la regione Abruzzo anche a un sostegno economico-finanziario in tal senso, aggiunge Pellegrino. Proprio in funzione di questa data, che veramente è notevole, perché il regno di Sicilia, oltre Messina, chiaramente dove era la capitale del regno, aveva queste cinque province significative nel continente, e Sulmona era una delle città principali del regno già all'epoca. E già all'epoca si puntava sul territorio, dello sviluppo della qualità dei prodotti. Che riconoscimento di mercato storico possa giovare al mercato di Piazza Garibaldi ne è convinto anche Pietro Leonarduzzi, che ha ricordato come ultimamente la piazza non è più ambita dagli ambulanti. La crisi e il cambio di abitudini ha fatto perdere il potere d'acquisto. Almeno 90 gli esercenti che hanno fatto le valigie. Ai futuri amministratori toccherà mettere in mano il regolamento comunale e dar vita alla famosa ristrutturazione del mercato. Da tanti anni stiamo sollecitando le varie amministrazioni di portare avanti i progetti di ristrutturazione del mercato di Sulmona. Purtroppo la precedente giunta non è riuscita a portare a termine questo progetto, un progetto già condiviso con i nostri ambulanti, deve essere solo portato in giunta e essere approvato.